Terza sconfitta consecutiva per la Bedaland Capodorlando che nella trasferta della 26esima giornata a Pistoia rimedia un 75-59 al termine di una gara combattuta in cui i paladini partono bene ma alla lunga cedono ai padroni di casa. Momento chiave del match è stato il rientro dall'intervallo che ha visto i padroni di casa allungare sul più 15 e fino al più 19 di inizio ultimo quarto firmato Boot, Lombardi e Crosariol. Inutili 15 di Arci e Iundici a testa per Delas e Diner. Brusco stop per gli orlandini che rende ancora più aggurrita la corsa e il playoff scudetto ad essa complicatasi anche in virtù dello scontro diretto a sfavore proprio con i Pistoiesi lontani solo due punti all'ottavo posto e con le inseguitrici Brescia, Brindisi e Torino attardate di altri due. Solo sorrisi in A2 per le siciliane la Leithaus Trapani centra una vittoria fondamentale in casa contro la Viola Reggio Calabria restando ancora in corsa per un posto in griglia playoff. Al Palacona definisce 89-73 per i Granata che nelle ultime due frazioni riescono ad imporre il proprio ritmo grazie alle performance di Renzi 25 punti, 8 rimbalzi e di Crocket 25 e 12. Gioia anche maggiore per la fortitudo grigento che torna a vincere in trasferta sbancando il parquet dell'Eurobasket Roma per 79-64. Un successo che permette agli uomini di Ciani di salire al quarto posto in classifica e cogliere la qualificazione matematica e i playoff per il quarto anno consecutivo. In Serie B Barcellona vince ancora in casa contro Teramo a 77-67 raggiungendo al secondo posto del Girone C Palestrina e Valmontone mentre Patti espugna il parquet della Visnova Roma a 59-63 lasciandosi ancora aperto uno spiraio di chiudere nel miglior piazzamento dei playoff e affrontare così una tra le cenerentole Viterbo e Maddaloni. Speranze ridotte ad un lumicino invece per Cefalù che perdendo 82-90 contro la corazzata Palestrina deve sperare in due sconfitte di Catanzaro nelle ultime due giornate per raggiungere gli isperati playoff.